Salve, salve bella giovancella, che fate qui che fate? Vieni mia bella, vieni dimmi in dove, dimmi in dove, cosa fate di bella panciulla? Guarda i tuoi occhi azzurri, splendono su questo cielo della Svizzera, lascia, lascia che una vicina e baci questa tua bella lavra, sporca e rirugiata. Noi, no, io non voglio dare una baci, io non voglio dare una baci, io non voglio dare una baci. Ti rifiuti, ti rifiuti, ti rifiuti di baciare, guarda che io ti rifiuti, provino la bocca, e spazio con la bocca, ma come ti permetti, mi hai sporcato tu? Ah lo so, fai la ritrosa, fai la ritrosa, io lo so, cosa stai facendo qui tu? Su parià, facciamo un po' di conversazione, che fai tu? Che faccio io? Che stai facendo? Hanno mandato nella tolla a mongiare l'azio, vanno le bella calote come sono? Mi piace quando canti, mi piace, lascia, 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 lascia. Gli altri due, hai voluto buttarti a testa volcamente a una donna e volevi... Tu confinavi il mio campo, vero? Che piano, ti trovo bellissima. Tu mi trovi bellissima? Sì. Tu sei? Sì. Ma come mi trovi bellissima? Io stavo mongendo, però non ci trovi. E tu permetti di rifiutarti, sai chi sono io? Io sono il diavolo. Io lo so tu chi sei, tu sei come la mia stessa mucca, sei nel stesse pecorna, per le stesse cose. Io non sono il diavolo a satanato. Tu sei il diavolo a satanato, satanato di sì, dico io. E poi, attenzione, non lo sai chi sono io? Sono il mongitore, vengono a me che faccio il mongitore. Chi sei? Tutti, tutti, tutti le ospite che sanno chi è Antonio. Chi sei tu? Antonio. E Antonio? Sì. Sono 13, 13 puntate che non sono... Sono Antonio! Ma intanto, ma cos'hai fatto? Ma sei stato a casa dove ho lancato? Sì, scusate, 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 scusate. Ma sei che non ci vedete noi? L'altra, l'altra? E' un'altra, l'altra, 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 l'altra. E' un seno, guarda che mi ha rabbia adesso. Ma basta con questa roba dell'altra, non le posso più. Ma basta, scusate. E' un'altra, l'altra, l'altra, l'altra. Ma come puoi fare delle cose così? Antonio, mi ascolta, basta con questa roba della vacca. Brutta vacca, vai figlio.